Da settimane e ormai da mesi, Antonietta Gatti e Stefano Montanari, esperti di nanoparticelle e studiosi degli effetti delle polveri sottili nell'organismo umano alla nanodiagnosti di Modena, stanno studiando giorno e notte il nemico che ha paralizzato il mondo. Un impegno costante nella ricerca, da sempre e ora nei confronti del Covid-19, che ha portato entrambi gli studiosi ad essere gli unici due italiani insegnati di un premio internazionale dal titolo Heroes of Humanity. È loro la scoperta della vera causa dei troppi decessi da coronavirus. Questo ente si è incaricato, autoincaricato, di scegliere gli eroi mondiali che si sono occupati di coronavirus, che se ne sono occupati in maniera positiva, cioè nel senso cercando di risolvere il problema del coronavirus. In Europa hanno individuato, mi pare, 3-4 europei forse, tra cui mia moglie e me, perché noi abbiamo da molto tempo, ci eravamo accorti che chi muore di coronavirus non muore di coronavirus, in realtà ma muore di tromboembolia polmonare. Quindi purtroppo io lo so che questo non farà molto piacere a una certa classe italiana, ma la stragrande maggioranza di chi è morto è morto per errori medici, che si sarebbero potuti evitare se ci si fossero accorti subito di quello che noi dicevamo da tempo, cioè si muore di tromboembolia polmonare. Quindi intubare il paziente è un errore, somministrare ossigeno è un errore, si sarebbe dovuto fare tutt'altra cosa perché il problema è un problema vascolare, è un problema di sangue e non di polmone, cioè è il sangue che non arriva al polmone e non c'entra l'aria, l'aria ci arriva tranquillamente ma purtroppo non può essere trasportata perché non arrivando il sangue non può essere trasportato l'ossigeno e quindi se ci si fosse accorti subito di quello che noi dicevamo da tempo, probabilmente moltissime morti sarebbero state evitate, così non è stato e quindi non si può tornare indietro. Comunque ci hanno premiato.